Il nostro schieno è spinto a casa, mi fa la mano, mi fa la scatola. Il primo è stata per la ritorno, per i domani, il numero 6, Fabrizio Poglie. Il numero 12, Giacomo Sardi. Il numero 11, Fabrizio Vazzini. Il numero 13, Cisette Vazzini. Il numero 16, Sergio Cagno Dagnini. numero 7, Alessia Corsa, numero 30, Berlino Mazzoni, numero 9, Bernardo Alonso, numero 11, Imbudio Piazza, numero 10, Signore Peretti, Imbudio Piazza, numero 11, Signore Peretti, Imbudio Piazza, numero 10, Signore Peretti, Imbudio Piazza, numero 12, Riccardo, Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti! 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 a tutti! grazie a tutti! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Doviamo solo che fare il nostro. Adesso dovremmo fare il nostro adesso. Grazie. 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 Fino, fino, fino. Fino, fino. Fino, fino, fino. 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 Fino, fino, fino. Fino, fino. Fino, fino, fino. Fino, fino, fino. Fino, 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 fino. Fino, 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 f Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie! 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 Wow! Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. tanto fa caldo. fa caldo. a tutti. 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 a tutti.